Siamo con il bomber dell'Atletico Sentinella, Tamara Molinari, pronti prima della sfida con le All Blacks. Come avete preparato questa partita? Oddio, come tutte le altre partite, noi cerchiamo di entrare in campo per divertirci e di fare del nostro meglio. Poi, vabbè, se i risultati non vengono fa niente, l'importante è divertirsi comunque. La squadra ci crede in questo passaggio del turno? Noi ci crediamo su tutte le partite, noi entriamo in campo per vincere, anche se magari i pronostici sono tutti contro, però possiamo sempre sorprendere.